Come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento? È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Si spostila prego, leone marino! Perché questo grande leone marino non ci lascia passare? Benvenuti alla lezione di navigazione dei leoni marini! Con le luco estate al sole le guance diventano rosse! La piccola copiatrice da questa parte è passata! Indovinate un po' la sua cosa preferita qual è stata? Se è tappeto volante avete pensato, avete indovinato! Ma c'è di più! Se alla porta volete arrivare, sui tappeti dovrete saltare! Forse a di lei Farfallù piace qualcosa lì! Deve piacerle tanto! I rinoceronti ci vengono a... Hopla! Hopla! Hopla!